Un posto al sole, trame 17 e 18 gennaio, Viola riflette su un'offerta di lavoro. Nelle puntate del 17 e 18 gennaio la trama di Un posto al sole ruota. Tra l'altro, attorno a Viola Bruni e alla nuova proposta di lavoro, al momento sconosciuta, che riceverà. D'altronde la donna potrebbe anche essere ansiosa di ricucire il rapporto con il figlio Antonio. Nel frattempo, sembrerebbe che Eugenia abbia completamente ribaltato la situazione e si stia avvicinando a qualcun altro. C'è spazio anche per Nunzio, che frequenta le serate pizza al Vulcano Cafè. Eugenio dimentica Viola e diventa intimo di un'altra donna. Nella puntata di mercoledì 17 gennaio Viola sarà ancora triste perché il figlio Antonio continua a trattarla con freddezza dopo aver saputo della sua relazione con Damiano. E mentre Viola fa di tutto per ricucire il rapporto con il figlio, il suo ex Eugenio Lucia si avvicina sempre più. Diego e Raffaele, divenuti piuttosto ostili nei confronti di Ferri, rimarranno delusi solo quando apprenderanno che Aida ha venduto suo figlio a Lara. Nunzio realizzerà uno dei suoi sogni più grandi, vendere pizza al Cafè Vulcano. C'è spazio anche per Nunzio. Questa opportunità potrebbe aumentare ulteriormente la popolarità del locale. Viola riceve un'offerta di lavoro giovedì 18 gennaio per Diego e Raffaele e è arrivato il momento del rientro a Napoli. Gli eventi accaduti durante un viaggio in Polonia sconvolgeranno profondamente il giovane Giordano quando dovrà fare i conti con la delusione per il fatto che Ida non fosse realmente quello che pensava. Allo stesso tempo, Raffaele non vorrà far finta che non sia successo nulla a Roberto e Marina, che hanno corrotto la famiglia a proprio vantaggio, ma Ferri tormenta anche in vari modi il portiere di Palazzo Paiadini. Intanto Viola riceve una nuova offerta di lavoro. Questo non è ancora dettagliato nell'anteprima ufficiale, ma darà sicuramente qualcosa su cui riflettere al professor Brunni. Tifosi Upas per Roberto e Marina hanno fatto molto discutere anche sui social le azioni di Roberto e Marina, che fanno di tutto per evitare che venga portato via il piccolo Tommaso. Infatti i fan di un posto al sole hanno espresso il loro disappunto, e sulle pagine social dedicate in particolare al melodramma campano si leggono commenti del tipo, Roberto Ferri e Marina sono in difficoltà per soldi. Che miseria! Sare a risolvere i problemi, Ferri è un uomo prepotente, egocentrico, che pretende che tutti gli siano subordinati e che, grazie al denaro, credo possa dominare. Voglio vederlo fallire in ogni modo?